La celebrazione del Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica svoltosi lo scorso lunedì in prefettura alla presenza del Ministro degli Interni Angelino Alfano è stata anche l'occasione per la città e in particolar modo per la Questura a Nissena per ricevere la visita del neo capo della Polizia Alessandro Panza che dopo aver partecipato in mattinata al Comitato nel primo pomeriggio si è recato insieme al Direttore Centrale della Polizia Criminale Francesco Cirilli negli uffici della Questura per incontrare il Questore Filippo Nicastro, i funzionari ed i commissari di Gela e Niscemi, i rappresentanti sindacali e il personale della Questura. Alessandro Panza è stato nominato nel 2007 su proposta dell'allora Ministro dell'Interno Amato, prefetto di Napoli, per poi assumere nel 2010 l'incarico di Direttore del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministro degli Interni. Lo scorso maggio Alessandro Panza è stato nominato dal Consiglio dei Ministri capo della Polizia al posto di Antonio Manganelli scomparso all'età di 63 anni per gravi problemi di salute.